Chiesa di intervento. Scalfarotto, prego onorevole Scalfarotto. Grazie Presidente. Allora, io credo che noi dovremmo al Paese alcune parole di chiarezza. E la cosa che va detta apertamente è che questa riforma costituzionale, che parte di un disegno più ampio, ha una caratteristica completamente innovativa rispetto a tutti i tentativi di riforma costituzionale che si sono fatti in passato. Infatti di solito il legislatore costituzionale prova a fare una riforma che metta le istituzioni in condizione di fare meglio. Questa volta, per la prima volta nella storia repubblicana, noi abbiamo una riforma costituzionale che deliberatamente vuole mettere il Parlamento in condizione non di funzionare meglio, ma di non funzionare affatto. Questo è l'obiettivo, peraltro, di un Ministro il quale ha come titolo il Ministro delle Riforme Costituzionali della Democrazia Diretta, che è già una contraddizione in termini. Questo, signor Ministro, è un luogo dove è la casa della democrazia rappresentativa. Lei ha la fiducia da parte delle Camere che sono fatte di rappresentanti del popolo eletti qui per sostenere o opporsi al Governo. Lei dichiara già nel nome del suo Ministero che questa cosa va messa via e bisogna dire anche con una certa coerenza perché da un lato ci porta una riforma costituzionale che vuole spogliare il Parlamento della sua competenza principe che è quella di fare le leggi ce ne siamo purtroppo dovuti occupare qui ma poi ci porta in Aula una riforma che riducendo il numero dei parlamentari e non modificando quelle che sono le competenze del Parlamento vuole deliberatamente fare incagliare i lavori parlamentari perché è evidente che nel momento in cui abbiamo le medesime competenze le faccio un esempio io sono membro della Commissione Esteri sono membro dell'Aggiunta per le Autorizzazioni sono membro del Comitato Bicamerale Schengen quindi io, pur essendo, diciamo, non avendo incarichi direttivi nel Parlamento devo presidiare tre commissioni studiare tutti i dossier essere preparato più fare il lavoro dell'Aula nel momento in cui un terzo dei miei colleghi saranno spariti quel carico di lavoro cadrà evidentemente su coloro che saranno rimasti e questo comporterà inevitabilmente il fatto che il lavoro parlamentare si farà più farraginoso ora uno dice questo renderà infelice o scontento il Ministro Fraccaro e il suo Governo ma certamente no perché questo è il risultato di un disegno neototalitario nel quale la Lega si preoccupa di incarnare il totalitarismo quello per le public relations quello all'esterno quello per il quale si strappano gli striscioni delle persone dalle case se dissentono o si strappano i cellulari delle ragazze se dicono qualcosa che non va bene si parla dai balconi e si arringa la folla da balconi che non erano occupati dal ventennio quindi la destra esterna diciamo il totalitarismo è appaltato alla Lega al Movimento 5 Stelle è stato appaltato un lavoro non meno importante e non meno pericoloso diciamo alla Lega si è dato il software a voi è stato al Movimento 5 Stelle viene appaltato l'hardware quello di fare in modo che la Repubblica parlamentare come la conosciamo non funzioni più fin tanto che si possa fare quello che volevate fare aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno rendere, portare la sovranità popolare fuori da quest'aula e portarla da qualche altra parte perché Ministro Fraccaro lei non vorrà mica far credere al popolo che con i suoi referendum propositivi sarà il popolo a decidere saranno 500.000 persone organizzate da una lobby che se lo può fare e si troverà un Parlamento che non funziona più e dei referendum propositivi che serviranno a spogliare queste aule dalla sovranità popolare guardi le dico Signor Ministro per il tramite del Presidente io non so dove voi vogliate portare la sovranità popolare quando l'avrete portata fuori da queste aule ma mi preoccupo comunque perché vede Signor Ministro il Parlamento con tutte le sue complessità e le sue differenze rappresenta una questione che ci divide molto profondamente l'idea che per me il popolo non è mai uno il popolo è plurale il popolo è diverso il popolo è rappresentativo distanze differenti perché quando si dice che ci sono i cittadini e il palazzo quando si riduce il popolo ad unità il problema è che basta una sola persona a interpretare quell'unità a interpretare quella volontà le peggiori dittature del mondo si chiamano repubbliche popolari o repubbliche democratiche perché fanno passare il concetto che il popolo sia uno e quindi il Parlamento non serve più al massimo diventa il luogo di una coreografia dove magari mille o mille e cinquecento delegati fanno finta di rappresentare il popolo e applaudono il leader che interpreta i desideri e le volontà di tutti questo è il vostro programma questo è il pericolo che voi rappresentate questo è il disegno organico che è rappresentato e deve sapere, signor Ministro che noi ci opporremo in tutte le forme in tutti i modi che la democrazia ci offre per fare in modo che quest'aula non venga trasformata come qualcuno voleva fare prima di voi in un'aula sorda e grigia che si rende bivacco di manipoli questo non accadrà stia tranquillo grazie onorevole Scalfatti